Bene, eccoci insieme anche oggi. In questa puntata parliamo di sport, ma parliamo, come ci capita spesso, o almeno cerchiamo di farlo nel campo economico, parliamo di una eccellenza, perché parleremo anche della scuderia Elloc di Borbiago di Mira, nell'ambito di una disciplina che si chiama, tradotta, Monta l'Americana e l'associazione italiana Quarter Horse, di cui ospitiamo Matteo Manzato, che è un rappresentante, un componente del Team Italia. Con lui ci siamo conosciuti un paio di anni fa, perché è stato medagliato ai campionati europei e l'appuntata odierna ci permette di fare un po' il punto su un'attività sportiva in forte crescita. Prima mi raccontava Forionda che sono 58 i paesi nel mondo che praticano la monta l'Americana. In Italia circa 30.000 cavalli iscritti in registro. E quanti cavalieri? 30.000? No, i cavalieri che poi operano attivamente, gli atleti, sono circa migliaio. E come sono andati questi due anni? Allora, i due anni sono un periodo nel quale poi l'associazione italiana Quarter Horse va a selezionare i vari atleti per poi costruire le squadre. Quindi sono periodi nei quali attraverso i punteggi del campionato italiano e tutta la formazione che viene fatta con dei master, dei clinic, alcuni con trainer e coach italiani, alcuni con trainer e coach americani, si va a coniugare poi il quadro generale per poi estrarre gli atleti che poi parteciperanno ai mondiali, che hanno cadenza biannale, e agli europei che si alternano appunto ai mondiali. Ecco, nella disciplina del Quarter Horse, quali sono le attività che vengono svolte durante la gara? Allora, nella testa dell'americano il Quarter Horse è il cavallo per eccellenza, cioè il cavallo che ha la maggior versatilità possibile e quindi si presta a più discipline. Ci sono attività che vanno dal rodeo, alle corse a livello ippico, quindi di velocità, fino alle quelle più tecniche che pratico ad esempio io e si praticano poi negli europei e nei mondiali, che sono le performance. Ovviamente all'interno di queste ci sono anche tutti i lavori con i vitelli, quindi il cutting, il team panning, quindi tutto ciò che va a dare quell'idea di wrench e di allevamento, perché per l'americano il cavallo è oggettivamente uno strumento di lavoro in primis, che però può arrivare a eccellenze di alta scuola americana e quindi una tecnica molto 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 alta. Le tecniche più alte sono a livello di riunione, quindi di capacità di rendere il cavallo estremamente consapevole del proprio corpo, come nel Western Pleasure, come nel Trail Horse. Adesso vedo anche delle immagini che si stanno svolgendo. Questa è una gara di Trail Horse nel quale il cavallo poi simula una passeggiata, chiamiamolo così, attraverso vari elementi, barriere, cancelli, ponti e ovviamente la destrezza e la capacità del cavalliere è quella di fare eseguire queste manovre senza rendere visibili gli aiuti, quindi senza usare le redini o il meno possibile, senza usare altri strumenti se non il proprio corpo e assetto. Tra queste varie discipline qual è quella in cui eccelliamo noi italiani? Allora, c'è una disciplina che è legata al Quarter Horse che è più conosciuta, si chiama reining e è una disciplina che è stata anche disciplina paraolimpica, quindi vicina agli Olimpiadi. E' una disciplina nella quale il cavallo deve eseguire dei cerchi, degli giri su se stesso che si chiamano spin, degli stop in scivolata ed è la disciplina forse più conosciuta tra quelle che vengono praticate all'interno della monta americana. Ed è quella in cui noi italiani siamo più bravi? Siamo più bravi tanto che ci sono cavalieri che poi sono stati assorbiti a livello proprio di passaporto anche dall'America e operano ormai oggi solo in America. Siamo stati campioni, campioni a livello mondiale e nelle varie ovviamente associazioni e categorie e siamo veramente un'eccellenza. Posso dire che siamo un'eccellenza anche a livello di performance perché insomma abbiamo portato a casa, come tu ben sai, l'oro agli ultimi europei con il team youth e questo ci dà una grande forza e un grandissimo stimolo. Dicevo prima, eccellenza nell'eccellenza anche la scuderia Elloc che ha sede a Borbiago di Mira che notoriamente voglio dire non è una metropoli però riuscita a produrre nazionali. Allora la scuderia Elloc è un allevamento che cerca di produrre puledri e poi allevarli o assumere cavalli che poi vengono addestrati da Martina Sonzogno che è poi con lei che si occupa di tutto l'addestramento e della mia socia. E nel nostro piccolo, insomma all'interno del nostro allevamento c'è un'associazione sportiva che si chiama Veni Source Club e 5 dei 19 elementi che componevano tutto il team Italia provengono proprio dalla nostra scuderia. Ma c'è una via particolare, cioè una via mirese al Quarter Horse. Perché? Nel senso che... perché siete così bravi a Mira? Allora, a Mira semplicemente è il luogo nel quale opera Martina e Martina è un po' il cuore di tutte le operazioni. C'è un'ottima istruttrice allora. Esatto, c'è un'ottima addestratrice, un'ottima istruttrice. Anche se devo dire che paradossalmente a Mira, che è un paesello molto piccolo, il cavallo non solo nel Quarter Horse è molto molto sentito. Ci sono tantissime realtà privati, piccoli maneggi che operano in questo senso. Chi nell'ipoterapia, chi nella monta più tradizionale inglese. Quindi forse non so, sarà una vocazione di derivazione storica, non credo però... Ecco, l'istruttrice lavora di più sul cavaliero o sul cavallo? Allora, nella testa di Martina, anche a livello mia, da cavaliere, la preparazione è esattamente la stessa. Cosa vuol dire? È un elemento propedeutico, cioè si cerca di rendere tutto ciò che si fa propedeutico alla consapevolezza e alla propriocezione. Quindi nella testa dell'addestratore, così dovrebbe essere, il cavallo e il cavaliere sono due elementi da formare. Quindi si prendono per mano, come un bambino all'asilo, alle elementari, e pian pianino si conducono parallelamente in un percorso. Insegnare a un cavaliere, insegnare a un cavallo è nella nostra testa la stessa cosa. Non c'è assolutamente differenza. Ma quindi sarebbe meglio che il cavallo conoscesse il cavaliere fin dall'inizio? Oppure sono due realtà, l'uomo e il cavallo, che possono incontrarsi anche, diciamo, in età più adulta? Allora, spesso per formare un cavaliere ci vuole un cavallo estremamente preparato, non si può prescindere dalla sapienza. Quindi a un cavaliere inesperto viene affidato un cavallo molto esperto, quindi un docente, un cavallo sapiente. Perché solo un cavallo sapiente può rispondere in maniera adeguata a ciò che fa un cavaliere non consapevole. Quindi se il cavaliere non è preparato, ha bisogno di un cavallo che gli dica sì, adesso mi stai chiedendo le cose in maniera corretta e io le sto eseguendo. Se il cavallo non ha questa preparazione, ovviamente non ci può essere un dialogo efficace. Per un cavallo inesperto invece ci vuole un cavaliere, un addestratore molto esperto. Quindi il docente diventa il cavaliere nei confronti del cavallo che è inesperto o giovane. So che c'è un appuntamento di cui tiene a parlare, se no finisce che arriviamo in fondo alla trasmissione e ci dimentichiamo di citare Ponte d'Era. Ponte d'Era, lo dico anche perché giustamente il consiglio IQH, Associazione Italiana Corte Rol, sta facendo un grosso lavoro. La tappa più importante della stagione è il campionato italiano, è aperto al pubblico, si tiene appunto a Ponte d'Era, a Pisa, in Toscana, presso il circolo di piccolo scogliattolo e sarà il clou di tutta la stagione italiana per quanto riguarda le performance e una parte del reining. Abbiamo citato prima che la scuderia è loca 5 nazionali, ma a parte quello invece la squadra che parteciperà a Ponte d'Era, ovviamente nello sport non tutti possono vincere, non tutti possono essere nazionali. Quanti sarete? A Ponte d'Era, noi della scuderia, allora calcoliamo che andiamo su con 4 cavalli e 4 cavalieri, perché poi le attività vengono un po' suddivise nel territorio, perché è un cavallo che si è fatto comunque 30 ore di viaggio per andare in Olanda, non sempre ha bisogno di periodi di rilassatezza, di cura di se stesso e deve riprendere un po' i… A proposito, questo è un aspetto interessante, i maratoniti agonisti dicono che in un anno più di 3 o 4 maratone non si possono fare. Per un cavallo quante gare può fare? Allora, io posso dire come ci comportiamo noi. Esatto, nella nostra testa un 5 show all'anno sono un… Show sarebbero gare. Show, sì, vengono chiamati proprio show, perché è comunque uno spettacolo andarli a vedere, quindi gli americani danno questo titolo. 5 show all'anno, 5-6 show all'anno sono un buon numero per poi preservare anche il cavallo, perché nel nostro sport più uno riesce a portare avanti il cavallo, più uno riesce a preservare il cavallo, più avrà un cavallo preparato. Per formare discretamente un cavallo pronto agli show ci vogliono 5 anni almeno per una preparazione adeguata. Allora, per concludere con un sorriso, visto che con Matteo Mazzato ci conosciamo da tempo. È una bella conoscenza. È un buon testimonial di una disciplina sportiva per tutti, voglio dire. Matteo Mazzato è un cavaliere in salute. Sì. Noi siamo abituati a vedere i fantini invece piccoli, un po' smunti, leggeri. È per dire che non è indispensabile nel quarter horse, diciamo, essere appunto leggeri per il cavallo, ci può essere anche in carne. Allora, dipende… grazie per l'incarne. Eh beh, facciamo parte della stessa compagnia. Io peso quasi 95 chili. Quindi, insomma… Eh sì, sono solo… Non un peso leggero. Diciamo che è molto importante che la cinetica del cavaliere sia adeguata. Significa cinetica? Vuol dire che il movimento che il cavaliere opera sopra il cavallo non sia in contrasto con il movimento del cavallo stesso. Quindi, se un buon cavaliere pesa qualche chilo in più, però ha un buon modo di muoversi sul cavallo, di stare sul cavallo, senza entrare in contrasto con i suoi movimenti, il problema non sussiste. Il problema sussiste, invece, quando c'è un peso importante con, invece, degli elementi di impreparazione o di incapacità da parte del cavaliere. Anche l'uso delle mani, la leggerezza delle mani, il controllo di tutto il corpo dell'assetto, la consapevolezza dell'ascolto che si ha poi nell'operare sono fondamentali. Un cavaliere che non è preparato può danneggiare e fare dei danni a un cavallo. Quindi, facciamo concludere dicendo che è uno sport per tutti. Assolutamente, ho persone di 76 anni che hanno fatto europei, conosco amici di 76 anni che hanno fatto europei, ci sono molte discipline da terra, quindi anche da terra si può operare e avere una buona confidenza. Da terra significa senza salti? No, da terra significa senza salire in groppa. Ci sono delle discipline, ad esempio lo showmanship, l'alter, che sono delle discipline di conduzione a terra. Ma dai, incredibile. Veramente per tutti a questo punto. Per tutti. Grazie a Matteo Mazzato, bisogna però amare i cavalli, perché questo credo sia l'elemento principe, altrimenti la magia non funziona. No. Grazie, lui lo ricordiamo, è componente del Team Italia, dell'IQH, associazione italiana Quarter Horse, che possiamo tradurre per tutti noi, monta all'americana una disciplina in cui l'Italia eccelle e all'interno di questa eccellenza va segnalata la scuderia Elloc di Borbiago di Mira, di cui il nostro ospite è contitolare. Corretto? Buona estima. Grazie a Dottor Stelluto. Ci si vede alla prossima. Grazie a Dottor Stelluto.